Gentili telespettatori, buona giornata. Sondaggio lab 2101 affaritaliani.it sulle intenzioni di voto politiche nazionali. Vediamo che il partito di Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, è il 29%, poi abbiamo la Lega al 9,3% e poi Forza Italia al 6,6%, noi con l'Italia 0,5% e abbiamo un totale del centrodestra al 45,6%. A sinistra il Partito Democratico è il 15,2%, Alleanza Verdi sinistra il 4%, più Europa al 2,6%, articolo 1 1,4%, totale centrosinistra 23,2%. Poi abbiamo Renew Europe all'8,6% che dovrebbe essere, più che Renew Europe dovrebbe essere azione. E poi abbiamo al 18,1% il Movimento 5 Stelle, poi abbiamo 1,6% Italexit, 2,9 altri partiti. Grazie a tutti e arrivederci a presto.